Le stagioni della moda non passano mai, specie per chi le vive come un piacere che rende liberi. Free Fashion, liberi di esprimere un modo di essere, liberi di interpretare il linguaggio dell'anima e di non farne mistero. Rivenditore autorizzato Trussardi in esclusiva di zona. Troverete anche Geox, Artigli, Coconuda, Sorbino, Maglioni, Giubbotti, Accessori Uomo-Donna delle migliori marche. Non perdete l'occasione di vestire Trussardi. Free Fashion, abbigliamento, uomo-donna, di Giulia Novelli, Corso Umberto I, 83, di fronte Monte dei Paschi di Siena, Bova Marina. Info 389 16 40 001. Free Fashion, eterne stagioni di moda. In questo periodo saldi su tutta la merce dal 30 al 50%.